avvenne questo fatto della bettola no questo fatto della bettola che fu una cosa traumatica per la nostra provincia insomma perché lì avevano ucciso in gran parte delle persone anche anziane comunque adulte qui invece fecero scherno dei morti insomma no e poi uccisero dei bambini insomma e allora era proprio nata la coscienza dire con questi qua bisogna farla finita insomma ecco e ci fu una bella leva che che prese che prese le armi